parte dedicata appunto al cibo e ovviamente al vino tutto sarà una sera di abbinamento tra i nostri prodotti principali del territorio questo è il nostro vino principale questo è il nostro vino più iniziamo con il nostro chianti classico 2020 e l'invecchiamento è di 18 mesi in botti di rompere francese prego ovviamente sono come dicevamo anche in cantina sono vini molto tradizionali quindi si sente molto il frutto e poco legno non è così che non sei anche anche se non si mangiamo tutto? non è proprio Stiamo ci sono un giro di un giro molto perché ci sono il giro di questo quindi di sentire allora che ora anche guardare guardare quindi di sentire il buon è molto ecco Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.